E mentre dopo la ripresa dell'esercizio dell'acquedotto Blufi da parte di Siciliacqua è stata ripristinata la regolare distribuzione il 5 marzo, così come comunicato da Caltacqua nelle zone di Caltanissetta, Sanatorio, Villaggio Santa Barbara e Trabonella, prevedendo anche il calendario per la ripresa su San Cataldo, domenica arriva una nuova comunicazione da parte del gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta. Il fornitore di sovrambito Siciliacqua e Sileggia ha dovuto interrompere a causa di un guasto la programmata attività di rifornimento dei serbatoi che alimentano il territorio di San Cataldo, per questo Caltacqua ha dovuto sospendere la programmata distribuzione alle utenze del territorio interessato.